Continua la crescita esponenziale dell'Istituto Moretti qui a Roseto degli Abruzzi, più 35%, più 185 studenti iscritti rispetto al 2022, una crescita importante che mette appunto l'Istituto Moretti sul grande piano delle scuole abruzzesi. È un motivo di orgoglio quello nostro di aver creato uno staff che ha collaborato fattivamente a rinnovare l'offerta formativa e tutti i laboratori che abbiamo qui nel nostro istituto. Sono stati adibiti a nuovi laboratori ben due aule e l'altro punto d'orgoglio per la nostra scuola è l'alternanza scuola-lavoro, oggi denominata PCTO e che è ripartita fortemente già dallo scorso anno ma sta incrementando ancora di più durante questo anno scolastico anche con soggiorni all'estero. E proprio di questi giorni i ragazzi sono in visita alle istituzioni di Vienna, quindi al Ministeri e agli enti locali dell'Austria in viaggio appunto con l'insegnante di tedesco. I dati vanno anche rapportati a livello nazionale e provinciale rispetto a una crescita della liceizzazione che continua ancora a livello nazionale, in modo particolare nel Terramano siamo arrivati al 65% e con una decrescita soprattutto gli istituti tecnici noi invece andiamo un po' in controtendenza. È un grande risultato per una scuola del territorio che non è soltanto il territorio di Roseto della Palata del Vomano, va anche oltre per tutta la costa terramana e ci induce sempre di più a trovare anche nuove proposte che siano veramente spendibili sul mercato del lavoro e soprattutto a livello universitario.